Allora mister purtroppo l'ennesima sconfitta di una squadra che produce sì del gioco si è visto oggi sia nel primo nel secondo tempo ma non riesce a produrre quel volume di gioco che gli consente di segnare si si manca ancora tanta qualità la quantità la qualità c'è ma ci manca la quantità allenamenti tutto quanto però già la domenica credo che saremo al completo anche in panchina come vedete siamo contati però fermo restando che oggi la squadra avversaria l'ha messa sull'aggressione intemorendo all'arbitro dall'inizio della partita fino alla fine fischiando cose allucinante tutto a favore del Badolato e mia madre di Badolato niente niente a che fare con parlato per carità però non si può andare in campo e giocare a calcioni quando noi abbiamo una squadra che gioca a calcio e l'avete visto come i ragazzi giocano no quindi le conseguenze non ci possiamo permettere il lusso di venire a una società amica qua che ci prendono a scalci in faccia calci per terra e l'arbitro vicino non vede niente quindi mandiamo gente competente a fare questo lavoro se no inutile che noi perdiamo tempo facciamo il nostro lavoro e la cosa deve essere riuscita altrimenti ritiriamo la squadra e via no allora mister sabato prossimo abbiamo la serresa in casa quindi mi pare che dovrebbe rientrare qualcuno che non è non sta tanto bene quindi la squadra al completo sì sì rientrerà anche però se che l'attaccante quindi abbiamo qualche infortunato qualche ammalato con influenza anche io purtroppo oggi sono in campo comunque speriamo bene per la prossima domenica molto probabilmente mercoledì faremo un amichevole a soverato con il Catanzaro e cerchiamo di riportare questo soverato in questa programmazione che abbiamo in tre anni contato sabatini allora un buon gioco prodotto da questo badolato oggi le ha assicurato due gol e abbiamo qui ecco colui che è stato l'autore di questa questa doppietta quindi è contento mi pare oggi no sì sì contento soprattutto per per i tre punti che per la doppietta quest'anno non ne stiamo facendo tanti di gol però l'importante certo quindi siete appunto in classifica qui sì sì adesso siamo quinti non so se in questa vittoria arriviamo quarti l'obiettivo principale diciamo era quello è quello di aggiungere salvezza stiamo incontrando molti problemi lavorativi chi si può allenare chi non si può allenare però siamo un bel gruppo e cerchiamo andare avanti fino alla fine prossima squadra mi pare giocare pure casa l'organico è al concetto no eh no adesso avremo un po di assenze per squalifica fortuni andiamo a borgia poi andiamo a montepaone di sicuramente sono due partite che ci diranno quello che possiamo fare da qui fino alla fine del campionato poi io e bomber domenico caporale già in accordo con la società abbiamo annunciato il ritiro al raggiungimento della quota salvezza però poi quello che succede succede vediamo giocare giorno per giorno ecco partita per partita poi tutto quello che viene in più è sempre ben accetto sì certo abbiamo una bella squadra tantissimi giovani promettenti che sicuramente ci sostituiranno alla grande e devo fare come sempre un ringraziamento al nostro presidente che è veramente una persona eccezionale e merita tutto il bene del mondo